Chiedo uomo che我有 un secondo Quanto mi ha detto Quanto ci dovere E oggi non ti dovere Quanto per che si può retirare Quanto per il territorio Quanto proteggere Quanto per il chiudere Didn't riparati ha dato che sape tutti i nostri di sono con noi. Mi raccordi che c'era un anno, e fare una cosa. gli, gli ho comunque hanno se colpiente, gli ho ilo di mille, e che avessero le due. La prima cosa lo veste, veste a vote a vote a votare, veste a votare, veste a votare. Veste a votare, veste a votare. Veste a votare, veste a votare! Veste a votare! A presto, a presto! Nontano, riemp Riep Nontano! Il nostro canale è un po' perciò che è un po' perciò che è il nostro canale. Non è lui, non è voluta mai. Non è mai da parte. Vole, venuti. Guardi, ha detto, non è ha pensato. Guardi, non è detto. Guardi, è gli esclavati, è la legge della legge, giusti del caso, allora è il stato de Prende, ora è il Anzimato, è il proprio pari. a me do chiamo per 앞에 anto anto non so i venso a te Grazie per la visione!